Una moltitudine di differenti fattori minaccia costantemente l'operatività dei sistemi informatici aziendali, da eventi catastrofici di causa naturale a sabotaggi e attacchi hacker alla semplice distrazione umana. Gli ingenti danni economici e reputazionali a cui un'azienda può andare incontro di fronte ad una perdita dei dati, fanno sì che la business continuity nei processi produttivi sia oggi più che mai determinante per restare competitivi in un mercato globale. Ecco perché, al fine di individuare la migliore soluzione capace di garantire al contempo l'integrità, la condivisione e la collaborazione simultanea su più file, abbiamo selezionato per i nostri clienti l'innovativa tecnologia di archiviazione dati costituita dai NAS Synology. Infatti, acronimo per Network Attache Storage, il NAS è un server di archiviazione dati intelligente collegato alla rete che consente di avere i documenti in un unico luogo, accessibili da chiunque in ogni momento. Sempre più di frequente però lo storage di archiviazione non è la sola esigenza avanzata dalle aziende che oggi non possono più correre il rischio di subire momenti di fermo produzione nell'eventualità in cui si verifichi un guasto o un malfunzionamento ai sistemi. Anche per questo motivo quindi abbiamo selezionato le Rack Station e le Dick Station Synology, caratterizzate per la maggior parte dei modelli da doppie porte G-Capit-LAN, in grado di offrire un servizio di failover e garantire così la business continuity aziendale. NAS Synology di ultima generazione costituiscono quindi una garanzia per assicurare all'infrastruttura IT alti standard di affidabilità, riducendo al contempo i momenti di fermo produzione in caso appunto si verifichino guasti o malfunzionamenti ai sistemi informatici. I NAS Synology hanno poi l'innegabile vantaggio di supportare direttamente un gran numero di applicazioni e servizi. Il sistema operativo Dick Station Manager che equipaggia i server NAS facilita la configurazione e l'amministrazione del NAS da browser e consegna così nelle mani degli utenti un prodotto che non è solamente un device per lo storage dei dati, ma un dispositivo estremamente utile per tutte quelle aziende che hanno adottato lo smart working per i loro dipendenti. Il VPN server integrato nel NAS Synology consente infatti di accedere da remoto, in modo sicuro e protetto, ai file contenuti nel NAS, memorizzati sui dispositivi collegati alla rete locale. In ultimo tutti i NAS Synology sono progettati e realizzati con un particolare riguardo verso il consumo di energia elettrica e il ridotto impatto ambientale. Ulteriore elemento vincente che rafforza così ancora di più la nostra partnership con Synology e la soddisfazione dei nostri clienti. Grazie. Grazie. Grazie.